In seguito alla straordinaria chiusura del centro vaccinale di Sassari, causata dalle abbondanti piogge di sabato pomeriggio, alla promocamera sono riprese regolarmente questa mattina alle 9 le attività vaccinali con un nuovo calendario che è stato riprogrammato. Chi aveva l'appuntamento nella giornata di sabato verrà riconvocato venerdì 23 aprile, mentre le persone prenotate per la domenica sono state spostate a sabato 24 aprile. Oggi si è ripreso con i residenti nel comune di Porto Torres nati dal 42 al 46, domani sarà ancora la volta della città turritana per i nati dal 47 al 51. Mercoledì i cittadini sassaresi nati tra il 48 e il 49, giovedì 22 aprile sarà ancora la volta dei residenti a Sassari nati tra il 1950 e il 1951. Venerdì 23 aprile potranno ricevere la prima dose del vaccino i cittadini di Ossi e Castelsardo nati tra il 1947 e il 1951. Sabato toccherà nuovamente i residenti sassaresi nati tra il 1946 e il 1947. Le categorie interessate dovranno presentarsi negli orari indicati nel sito muniti di tessera sanitaria e documento di identità negli orari stabiliti nell'ultima comunicazione dell'ATS. Gli over 80 che per qualsiasi motivo non avessero ricevuto la somministrazione del vaccino possono recarsi nel lab di riferimento o contattare il proprio medico per ricevere la prima dose. I pazienti allettati o impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione devono contattare il proprio medico di fiducia.